Bentornati a Codemotion Roma, sono in compagnia di Nino Guarnacci, Oracle, ciao Nino. Ciao Laura. Hai fatto stamattina il tuo talk, innanzitutto come è andato? È andato abbastanza bene, il talk è andato molto bene, poi insieme a una delle organizzatrici del Codemotion Mara eravamo rimasti d'accordo di far vedere qualcosa di un po' più tecnico anche per quell'anima nerd che c'è all'interno della manifestazione e quindi metà demo è andata, metà no, sai perché? Perché mi ero distratto, uno dei componenti delle tings che c'erano erano attaccate alla corrente, gli ero di me, e si è alzato uno per attaccare sotto carica il cellulare e ha staccato il tings quindi quando non sentivamo suonare la sirena perché doveva suonare una sirena, la sirena non c'era più, era staccata perché c'era un cellulare a caricare però è stata simpatica anche questa. Fantastico, fantastico, il bello della diretta Assolutamente, assolutamente Senti, dunque innanzitutto ti volevo chiedere come prima cosa, come fa un ragazzo neolaureato a trasformare la sua passione in business, quindi in azienda? Ok, guarda, considera che il talk è iniziato proprio con questa prima risposta, cioè prima di farci la domanda ci siamo dati una risposta, un po' la marzullo strana è iniziata con una slide che aveva due figure umane, due persone, uno era un classico nerd, proprio un nerd, poi lo potrete vedere dalle slide che scaricate e un'altra invece è un bellissimo uomo da fare, l'ho chiamato fighissimo uomo da fare e sotto c'era la descrizione di dire probabilmente questo è un nerd e probabilmente questo è un uomo da fare Cos'è che li distingue oltre all'aspetto fisico? Di base, uno è il nerd perché incline a utilizzare i verbi Utilizza i verbi, tipo deployo, cancello, copio, impacchetto, eseguo, ok? E l'altro invece è il classico che utilizza solo aggettivi È utile, è innovativo, è rivoluzionario, è cost saving, ok? Allora, qual è il vero modo per fare questa transizione da nerd appassionato che non fa una lira a uomo d'affari che riesce a trasformare in business l'iniziativa? Il fatto di provare a guardare non più solo al proprio virtuosismo tecnologico ma di cercare di calare questa roba in un aspetto di business Dandogli degli aggettivi, non dei verbi, non concentrandosi su cosa può fare ma su che vantaggio porta Bene, senti, invece, come sta avvenendo il passaggio dall'Internet of Things per hobby a invece processo industriale e insomma come vedi il futuro da questo punto di vista? Allora, quello che ho visto qua alla manifestazione è che quest'anno come ogni anno è sempre più diciamo sempre più grandiosa, sempre più Tra l'altro è anche emozionante vedere come anno per anno questi ragazzi che diventano uomini continuino a seguirle, le nuove eleve cominciano a partecipare cioè non ci stiamo più dentro l'università in termini di numeri E quest'anno come non mai ho notato che c'è stata una vera e propria aggressione nei confronti di quello che è il tema dell'Internet delle cose e dei wearable in generale ed è qualcosa che fa piacere vedere, però è sempre quello che ho visto io trattato come un virtuosismo tecnologico, no? Cioè c'è molto poco di business dietro questo io credo personalmente sia dovuto intanto a una prima fase economica che è la frammentazione degli standard, la frammentazione delle tecnologie che inevitabilmente crea filoni differenti poi dopo successivamente questo come tutte le altre tecnologie collasserà su grandi poli che a loro volta detteranno le regole sul mercato quindi il passaggio da hobby all'ambito commerciale io lo vedo oggi come un cercare di astrarsi il più possibile da quella che è un'implementazione tecnologica specifica e di cominciare a costruire l'involucro così che qualsiasi tecnologia tu sceglierai, adotterai o il cliente a cui ti rivolgi sceglierà il tuo valore aggiunto è quello che hai costruito come involucro questo bene, direi ottimi consigli che dire Nino, quindi ti volevo chiedere se ti era piaciuta questa edizione di Code Motion Roma è fantastica, è una edizione fantastica poi è piena di persone simpatiche simpaticissime e se tranne Marco Casario che però non ci possiamo fare niente possiamo farci, non ci possiamo fare niente la più simpatica è Mara Marzocchi è chiara ma anche Laura è simpaticissima e che dirvi, spero che per l'anno prossimo ci sia sempre più gente e che magari riuscirò a fare un talk e la guidiamo duri tutto il tempo e non mi stacchino la serena alle spalle ok, te la auguriamo anche noi allora a presto e grazie Nino ciao, grazie ciao 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 ciao